Le carote crude sono più nutrienti. La carota è un ortaggio a radici che viene spesso definito il perfetto alimento salutare. È croccante, gustoso e molto nutriente. Le carote sono una fonte particolarmente buona di beta-carotene, fibra, vitamina K, potassio e antiossidanti. Le carote hanno una serie di benefici per la salute. Sono un alimento favorevole alla perdita di peso e sono stati collegati a livelli di colesterolo più bassi e una migliore salute degli occhi. Gli antiossidanti caroteni in essi contenuti sono stati anche associati a un ridotto rischio di cancro. Si trovano in molti colori, tra cui giallo, bianco, arancione, rosso e viola. Le tradizionali carote color arancio prendono il loro colore brillanti dal beta-carotene, un antiossidante che viene convertito in vitamina A nel corpo. Valori nutrizionali. Il contenuto di acqua può variare dall'86-95% circa e la porzione commestibile è composta da circa il 10% di carboidrati. Le carote contengono pochissimo grassi e proteine. Una carota media e cruda contiene 25 calorie, con solo 4 grammi di carboidrati digeribili. Carboidrati. Le carote sono principalmente composti da acqua e carboidrati. I carboidrati sono costituiti da amido e zuccheri, come saccarosio e glucosio. Sono anche una fonte relativamente buona di fibre, con una carota di media dimensioni che fornisce 2 grammi. Le carote hanno spesso un basso indice glicemico, che è una misura della rapidità con cui gli alimenti aumentano la glicemia dopo un pasto. L'indice glicemico delle carote va dal 16-60, essendo il più basso per le carote crude, un po' più alto per le carote cotte e più alto per le carote passate. Mangiare cibi a basso indice glicemico è legato a numerosi benefici per la salute ed è considerato particolarmente utile per i diabetici. Fibra. La pettina è la principale forma di fibra solubile nelle carote. Le fibre solubili possono abbassare i livelli di zucchero nel sangue rallentando la digestione di zucchero e amido. Possono anche nutrire i batteri amici nell'intestino, il che può portare a un miglioramento della salute e ad una riduzione del rischio di malattia. Alcune fibre solubili possono anche compromettere l'assorbimento del colesterolo dal tratto digestivo, abbassando il colesterolo nel sangue. Le principali fibre insolubili nelle carote sono sotto forma di cellulosa, ma anche micellulosa e lignina. Le fibre insolubili riducono il rischio di stitichezze e promuovono movimenti intestinali regolari e sani. Vitamine e minerali. Le carote sono una buona fonte di diverse vitamine e minerali, in particolare vitamina A, viotina, vitamina K, potassio e vitamina B6. Vitamina A. Le carote sono ricche di beta-carotene, che viene convertito in vitamina A nel corpo. La vitamina A promuove una buona visione ed è importante per la crescita, lo sviluppo e la funzione immunitaria. Viotina. Una delle vitamine del gruppo B, precedentemente nota come vitamina H svolge un ruolo importante nel metabolismo dei grassi e delle proteine. Vitamina K1. Conosciuto anche come fillochinone, la vitamina K è importante per la coagulazione del sangue e può promuovere la salute delle ossa. Potassio. Un minerale essenziale, importante per il controllo della pressione arteriosa. Vitamina B6. Un gruppo di vitamine correlate che sono coinvolte nella conversione del cibo in energia. Ridotto rischio di cancro. Le diete ricche di caroteni possono avere un effetto protettivo contro diversi tipi di cancro. Questo include il cancro alla prostata, il cancro del colon e il cancro allo stomaco. Le donne con alti livelli circolanti di carotenoidi possono anche essere a rischio ridotto di cancro al senno. Ricerche più antiche suggerivano che i carotenoidi potevano essere protettivi contro lo sviluppo del cancro del polmone, ma studi più recenti non hanno trovato alcun effetto protettivo. Abbassare il colesterolo nel sangue. L'alto colesterolo nel sangue è un noto fattore di rischio per le malattie cardiache. L'assunzione di carote è stata collegata a livelli di colesterolo più bassi. Perdita di peso. Le carote, come parti dei pasti, possono aumentare la sazietà e diminuire l'apporto calorico nei passi successivi. Per questo motivo, le carote possono essere un'aggiunta utile ad una dieta dimagrante efficace. Saluti degli occhi. Gli individui a basso contenuto di vitamina A hanno maggiori probabilità di soffrire di cecità notturna, una condizione che può migliorare mangiando carote o altri alimenti ricchi di vitamina A o carotenoidi. I carotenoidi possono anche ridurre il rischio di degenerazione maculare legata all'età. Carotine. Carotine sono un termine per carote piccole o immature, che sono diventate molto popolari come snack negli ultimi anni. Ci sono in realtà due tipi di carote che si chiamano carotine, che possono essere un po' fuorvianti. Da una parte, ci sono carote intere che sono naturalmente piccole o carote che vengono raccolte prima che diventino grandi. D'altra parte, ci sono carote tagliate a dadini. Questi sono pezzi di carote più grandi che sono state tagliate a macchina nella misura preferita, poi pelate, lucidate e talvolta lavate in piccole quantità di cloro prima dell'imballaggio. C'è una minima differenza di nutrienti tra le carote normali e quelle per bambini e dovrebbero avere gli stessi effetti sulla salute. Il consumo di carote è stato associato a un ridotto rischio di cancro e malattie cardiache e a un miglioramento della salute degli occhi. Possono essere un componente prezioso di una dieta dimagrante e efficace.